Il 28 novembre del 2021 di questo anno comincia l'Avvento. L'Avvento che è davvero un tempo meraviglioso. Certo, tutti i tempi liturgici sono meravigliosi, ma l'Avvento ha delle particolarità, ha delle caratteristiche. In questa prima catechesi liturgica mi propongo un obiettivo, quello di aprirvi qualche piccola finestra, di farvi conoscere alcune cose di questo tempo. Innanzitutto il termine, il nome di questo tempo, Avvento, Adventus, attesa. Il popolo di Dio si mette in attesa. Attesa di che cosa? O meglio ancora, attesa di chi? Erroneamente ci siamo convinti, ma questa cosa è frutto degli ultimi secoli probabilmente, se non degli ultimissimi anni, che l'Avvento sia il tempo di preparazione alla solennità del Natale o al tempo natalizio. In realtà le cose non stanno proprio così. Quando parliamo dell'Avvento parliamo di un tempo liturgico diverso dal tempo natalizio. I due tempi sono contigui, sono vicini, l'uno sfocia nell'altro, ma sono tempi sostanzialmente differenti. Il tempo di Avvento si compone per noi di rito umano di quattro settimane. Quattro settimane molto molto diverse fra loro, quattro domeniche diversissime. In questa prima catechesi mi fermo nel dire che cosa? Che le prime due domeniche del tempo di Avvento sono dette le domeniche escatologiche. Perché escatologiche? Perché è nei testi della Sacra Scrittura e nei testi del Messale c'è un chiaro riferimento alla seconda venuta di Cristo. Dobbiamo comprendere qualcosa. Dopo l'ascensione del Signore gli Apostoli, ma anche noi, nutriamo la convinzione di che cosa? Che Lui tornerà, il Signore ce l'ha detto, tornerò e vi prenderò con me. Quindi tutta la Chiesa che cosa fa in Avvento? Ricorda proprio questo, che il Signore verrà, che il Signore tornerà. Maranatà è il grido dell'Avvento. Maranatà significa vieni Signore. Non è un'invocazione rivolta al bambino di Betlemme, ma è un'invocazione rivolta al Curios, al Signore, al Signore della storia, a Cristo, perché possa venire e completare la nostra storia. Una domanda, ma tu lo sai che la nostra storia va verso una fine? La nostra storia ha avuto un inizio, ma va anche verso una sua conclusione. Questa è la nostra fede, ma non sarà una conclusione disastrosa, così come qualche volta immaginiamo, sulla base di alcuni testi, perché noi non andiamo verso la fine di tutte le cose. Noi andiamo verso il fine, il fine della storia. Chi è il fine della storia? Della nostra storia personale, ma anche della nostra storia comunitaria, collettiva. Il fine di tutto è il Signore, il nostro Signore Gesù Cristo. L'unico in grado di dare senso ai nostri giorni e alla nostra storia. Tutta la Chiesa nel tempo di Avvento vive questa tensione, vive questa sospensione fra il già e il non ancora, fra ciò che oggi e ciò che sarà domani, quando Lui tornerà. Qual è il colore dell'Avvento? Anche qui non lasciamoci ingannare. Le rubriche ci parlano del viola, ma il viola del tempo di Avvento non è un viola così marcato, così definito, è piuttosto una mescolanza di rosso e blu. Rosso, il colore del sangue, il colore dell'incarnazione, del Dio che si fa carne, e il blu, il colore della regalità. Danno origine a questo colore indefinito, indefinito così come è indefinito questo tempo, così come è indefinita tutta la nostra storia. Chi dà senso, chi dà definizione, chi dà definitività alla nostra storia è proprio Lui, Gesù il Signore. Quindi l'Avvento è questo tempo in cui soprattutto nelle prime due domeniche non siamo concentrati sul Natale o sulle luci o su tutto ciò che ci può distrarre, ma le prime due domeniche, le prime due settimane ci invitano a riflettere, a ricordarci che Lui tornerà. Quindi di conseguenza accendono una luce sul senso della nostra vita, su come stiamo camminando adesso, su quello che stiamo facendo, su chi stiamo aspettando. L'Avvento ci riporta una domanda fondamentale. Chi aspetto io nella mia vita? Chi aspetti tu nella tua vita? Quali sono le attese che nutriamo? Tante volte siamo delusi perché probabilmente nutriamo attese sbagliate, ci aspettiamo qualcosa che non arriva mai o che se arriva ci delude. Avvento ci ricorda di sapere aspettare, ma sapere aspettare Lui, il passaggio di Cristo nella nostra vita e nella nostra storia. Vi saluto, vi ringrazio per l'attenzione, ci vediamo la prossima settimana. Buon Avvento a tutti.